non so forse la prossima season però non amo pozzo qua nelle vicinanze si un po in questa zona sta poi fa 75 l'arco l'arco è una season che non ho partito è una season ecco un giocatore un giocatore il giocatore da me uno 24 a terra uno per cui si scova così noi vediamo lo stanno i compagni sono morto in pratica scappa c'ho le bende però se vieni da me mi fermo fuori ok mi sono fai le bende e uno c'è sta un giocatore che si è buttato in acqua uno sta in acqua stava sopra via gabria bianco bianco stava bianco fai 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 tanto ma chi ha pianto la scheda io vengono un buono per me io voglio dare chi ha vecchi capitolo che fa 115 ci sono c'è io c'è la piacina quindi si trova delle poze amato 2 giga come sta per mondo io c'è la 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 k ea qua c'è il dono a tutti servirebbe livello 185 dai c'è un po bianco bar eterga arrivando dove stai questo procidore namo ma la città ci stanno tagliare vai è ma Matteo Raga, faccio il banca Guarda, raga, è impossibile Poi dovessi morire Lo trovo, lo trovo, no, no, è fatta a porta Vedi Con tutta c'è gente comunque Eccolo la, uno Mi faccio io col baret Poveraccio Raga, laggiù c'è Raga, laggiù altra gente Morto Barrettato, lo ha barrettato Pompino, pompino blu Ragazzi, troviamo un cusciolo per parte Sì Raga, safe Sì, safe raga No, non si frega, perché è lontana Nessuno, c'è sta gente da notte a noi No, no, c'è sta gente da notte a noi Non lo spazio, vabbè C'è un messaggio a questa casetta Gente qua, regà, gente qua No, ma che Mi dico, cento da Sì Raga, questo è uno shield Eh, mi sa, mi sa, sta curando Se sta curando, mi sa Raga, uno morto, uno morto Che sta, regà Che sta curando Ci sta il baret Vai, Pietro Solti già ce l'ho Raga Raga, qua ci stanno sei shieldini, regà Ma come ce l'hai fatta a morire? Raga, barco Che è morto Come l'hai fatta a morire? Aspetta che sta venire a sale, no? Ok, vai, sta venire Vai tu, Gabriele Sì Vai, vai Raga, barco Sì Raga, barco Dov'è? Dov'è? Matteo, che faccio? Prendo L'alzare 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 Eh Mitraglietta Falta mitraglietta Sì Sì Raga Raga, io c'ho solo questi due cosi, andiamo Prendiamo l'alzare Fatti sto mettere i cosi Un altro elicottero? Raga No Non c'è Che faccio? A voi Non ce l'ha fatta Oddio Non scende 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 Vai Non scende Non scende Non scende buono mica io io non c'ero il bar che l'ho lasciato pure che l'ho attirato uno di cecchino c'è trovato è che rosa fermo no capri è rimasto all'ultimo 198 metri un'altra c'è un'altra c'è stata c'è stata mamma mia che schifo spari spari volemo andare si si pure a me è quel team la che stava andando verso la safe ancora una nuova penso troppo ecco adesso mi ha dato eccolo davanti a me eccolo rica c'è tutti sei morto no safe safe prima vai rica mi servirebbe un colpo di spara band ok comunque sto a fare le barrettate bellissimo eccolo no 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 ma stanno sparando ancora dentro rica ma stanno sparando se ti lo spari si rica non è possibile ma dentro c'è lo sarà bene rica ma ma un po' i materiali ce l'avete che io ce l'ho a 350 10 vedi vedo c'è ma come dai 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 si interiati eccolo 32 insomma si chiama che non occupa si regala è il nostro pregato il nostro chissà lo sa però è noto frega mamma orco ragazzi più rega a te o va vabbè dai rega gg